Ma già da molti anni Elica è presente nel tema dell'ambiente, crede in questo con la certificazione all'inizio del 2001 trasformata in ISO 14001, certificazione volontaria, perché poi tutti i grandi clienti sono attenti, sono diventati attenti a questa possibilità, a questa sensibilità verso il pianeta, per cui sono le normative, sono seguite le ROS, le IKI e tutto il resto. Crediamo soprattutto anche nelle persone, perché è il terzo anno consecutivo che l'azienda vince il Great Place to Work, quale miglior luogo per lavorare, crediamo nel territorio, perché aiutiamo comunque i figli di indipendenti ad andare all'estero, quindi c'è una responsabilità anche culturale, sociale, di impresa, crediamo in tutto quello che è anche solamente il prodotto stesso, perché tiene in considerazione l'aria, che è comunque un elemento molto determinante per il nostro vivere, prodotti che diventano da trattamento dell'aria, quello della luce, attraverso una, che abbiamo inventato, una luce terapia, fino a spostarsi al benessere psicofisico con luce, aria e suono, per cui siamo intorno all'uomo con un design sostenibile. Grazie a tutti!